buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione dei giornali federfarmacianer diamo rapidi occhiate titoli di oggi farmaci online in crescita le farmacie autorizzate alla vendita tobia fenomeno legittimo ma serve contrastare gli illeciti spesa farmaceutica ssn i dati aggiornati attestano un calo del 4,1 per cento collaborazione tra medico e farmacista non c'è il film promuovono il percorso farmaprivacy pubblicato il video tutorial su fedefarmachannel secondo il ministero della salute dopo un ralentamento tra gennaio e febbraio il numero totale di farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita online di sop e otc ha ripreso a crescere nel mese di marzo raggiungendo quota 807 esercizi si tratta di 31 nuove attivazioni suddivise tra 24 farmacie e 7 parafarmacie qualora il trend dovesse rimanere tale alla fine del 2019 potrebbero sfiorare le mille unità coloro che sceglieranno di posizionare anche online la propria attività a commentare i possibili scenari che potrebbero aprirsi relativamente a questo trend il segretario di federfarma roberto tobia raggiunto telefonicamente dalla collega rossella gemma ecco uno stralzo del suo intervento se dovesse essere confermato il trend positivo riguardo i dati sul rilascio delle autorizzazioni alle farmacie che richiedono ai competenti assessorati regionali alla salute il rilascio del cammon logo che le autorizza al commercio online dei farmaci da banco entro la fine del 2019 potrebbero essere più di mille le attività tra farmacie nella maggior parte dei casi e parafarmacie che hanno deciso di intraprendere il commercio online questo è un fenomeno legittimo quello che ci preoccupa è sicuramente invece il dilagare sempre più crescente di siti che commercializzano online farmaci che farmaci non sono e prodotti salutistici che spacciati per tali nella migliore delle ipotesi non sortiscono nessun effetto benefico alla salute ma al contrario producono dei danni alla salute dei giovani che sono i più interessati a questo tipo di attività sul web da questo punto di vista mi piace sottolineare l'attività incessante e costante di federfarma nel segnalare le attività competenti questa attività sul web che sicuramente dannosa per la salute del cittadino va contrastata e combattuta con ogni mezzo federfarma fa sapere che la spesa farmaceutica netta ssn nel 2018 ha fatto registrare rispetto al 2017 un calo del 4,1 per cento a determinarlo la diminuzione del numero delle ricette ssn ma soprattutto la riduzione del valore medio della ricetta e quindi del prezzo medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale i dati elaborati dai cuvia mettono in luce anche un incremento della spesa complessiva per farmaci acquistati direttamente dalle strutture pubbliche dai dati emerge però anche un altro aspetto interessante il contributo da parte delle farmacie al contenimento della spesa è la diffusione degli equivalenti prosegue inoltre il trend di aumento delle quote di partecipazione a carico dei cittadini per una panoramica sui ticket applicati dalle singole regioni si può consultare il sito di federfarma.it alla voce ticket regionali relazione fra paziente e farmacista cooperazione fra le professioni sanitarie e ancora medici di famiglia e farmacisti a confronto a livello territoriale sono questi alcuni dei temi trattati durante gli stati generali della farmacia dal vice presidente della FNAMUCEO Giovanni Leoni e dal segretario della FIMG Silvestro Scotti ecco come hanno spiegato queste nuove relazioni ai microfoni di federfarma channel ma nell'evoluzione dell'assistenza al paziente in particolare al paziente cronico di età avanzata polipatologico con delle terapie che gli hanno garantito una buona sopravvivenza ma anche la necessità di aderire in maniera costante a tutte le prescrizioni è fondamentale avere una guida di interesse e correzione nel tempo per quanto riguarda l'assunzione di farmaci per molte patologie. Il farmacista dal punto di vista dell'aderenza alla terapia è fondamentale perché segue in maniera capillare anche i pazienti che possono essere soli senza non supporto di parenti amici molte volte ci sono dei nuclei soli e quindi sono quelli che possono avere più sbandamenti o dimenticanze. I medici di famiglia e i farmacisti sono i classici vicini di casa del servizio sanitario nazionale credo che rappresentino la risposta territoriale immediatamente percepibile dal cittadino o dal paziente l'assistito dal malato come lo vogliamo chiamare nel momento del bisogno in termini di cura. Il medico rispetto ai processi di diagnosi e terapia, il farmacista rispetto alle competenze che sono tipiche del farmacista rispetto all'accesso al farmaco e alle indicazioni alla consulenza in merito a quel modello di competenza che si potranno anche allargare a mio avviso qualora si dia seguito a quelli che sono i contenuti previsti per legge che creino in convenzione un ponte come dire produttivo della capacità di relazione tra i farmacisti e i medici di famiglia rispetto all'erogazione delle prestazioni. Pubblicato sul sito di Federpharma Channel un video tutorial per la compilazione di Pharma Privacy, l'applicativo prodotto da Promofarma per permettere alle farmacie di adempiere correttamente agli obbligli imposti dal GDPR. Il tutorial prodotto dall'avvocato Giulia Fatano è pensato sia per gli utenti che usano Pharma Privacy per la prima volta sia per coloro che hanno già iniziato a utilizzarlo per verificare di avere eseguito correttamente tutti i passaggi. Con le notizie relative ai contenuti del sito di Federpharma Channel chiudiamo l'edizione odierna del nostro telegiornale. Vi diamo appuntamento domani con una nuova edizione e dello spazio dedicato all'informazione.